Il tempo dei preparativi è finito, il 64esimo rally di Sanremo superate le verifiche sportive e tecniche e lo shakedown di ieri entra nel vivo. Questa mattina i 57 equipaggi ammessi al via sono scattati a mezzogiorno in punto dalla pedala di corso Imperatrice davanti al Casinò per andare a affrontare le prime quattro prove speciali di Vignone, San Romolo, Semoigo e il secondo passaggio sulla speciale di Vignone prima di tornare a Sanremo per il lungo riordino in piazza Voreadolmo. Quindi questa sera tutti al parco assistenza di piazzale Adolfo Rava per montare i fari supplementari e affrontare le due affascinanti speciali in notturna ovvero la mini ronde di 33 km che scatta da Col di Rodi alle 22.50 e la terza ripetizione di Vignone. Gli equipaggi torneranno a Sanremo nel cuore della notte per ripartire domani e sfidarsi nelle ultime speciali che assegneranno la palma del vincitore. Oltre al campionato italiano si corre anche per il rally storico, il rally leggenda ed ecorelli. Grazie. 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 Grazie.